Stop all'inquinamento entro il 2050 e l'Europa vara le case green, con nuovi edifici ad emissione zero e, per tutti gli altri, maggiore efficienza energetica. Serviranno piani nazionali di ristrutturazione e l'addio alle caldaie a combustibili fossili. La svolta verde in cassa è il primo sì del Parlamento di Strasburgo, con 370 voti a favore, 199 contrari e 46 astenuti. I partiti del governo Meloni hanno votato contro la direttiva, mentre l'opposizione si è schierata a favore, perché è un imperdibile volano per l'economia. Una nuova ecofollia europea, l'ha giudicata il ministro Matteo Salvini. Più rumorosa la contestazione dell'eurodeputato della Lega, Angelo Ciocca, con fischietto e cartellino rosso, con espulsione finale dall'Aula. Il testo, che chiuderà il suo iter legislativo il 12 aprile al Consiglio Ecofin, prevede nuovi edifici ad emissione zero dal 2030, per quelli pubblici dal 2028. Entro il 2030 dovranno essere ristrutturati almeno per il 16% e per il 26% entro il 2033. L'obiettivo di riduzione del consumo energetico per le case sarà almeno del 16% dal 2030 e del 20-22% entro il 2035, attraverso interventi come cappotto termico, sostituzione degli infissi, nuove caldaie a condensazione e pannelli solari. Questi ultimi saranno obbligatori per i nuovi edifici pubblici dal 2026 al 2030. Gli Stati dovranno dotare di impianti solari anche gli edifici residenziali. Dal 2025 nessun sussidio per le caldaie autonome a combustibili fossili. Dal 2040 queste caldaie dovranno essere dismesse. Edifici storici, agricoli, militari ed ecclesiastici sono esenti dalla ristrutturazione. In Italia si calcola che sono circa 5 milioni le case interessate. I paesi UE avranno due anni per adeguarsi e centrare gli obiettivi green del testo. Per efficientare tutto il parco immobiliare servono 275 miliardi di euro di investimenti annui entro il 2030. E cioè quasi il doppio delle risorse annue attuali. Per i detrattori la mancanza di fondi europei ad hoc è stato il punto debole del piano. Anche se gli Stati potranno attingere riserve UE come il Fondo Sociale per il Clima, il Recovery Fund e i fondi di sviluppo regionale.